ciao a tutti oggi nuovo video su una box che ho già preso in passato quindi andate a vedere sul canale e sono le box di rebel box ogni mese c'è un nuovo argomento un tema e l'ultimo tema che hanno fatto e sullo studio ghibli quindi l'ho presa il sito e rebelle.com e dare un'occhiata e intanto vi faccio vedere questa qua che è arrivata alla box si presenta così la principessa monocca ecco qua e qua c'è il cartoncino con l'immagine e di qua ci sono i prodotti che dopo vi leggerò non voglio spogliarmi niente allora apriamola allora per prima cosa c'è totoro vediamo un attimo allora ce la faccio hai una borsina di peluche fatte come le borsine giapponesi che si incrociano i manici così color panna dentro e foderata così abbastanza carina coccolosa caldosa ecco qua poi c'è il libro come in ogni box allora questo è il libro d'enchant book storie luoghi creature che hanno ispirato i calcolavori lo studio ghibli questo è il nome della di chi crea le box rebelle allora diamo un'occhiata al libro questo costa 18 euro contiene anche un bestiario yokai ghibli illusato da black banshee che un'illustratrice che penso che abbia fatto anche questo cartoncino vediamo come dentro ci sono anche delle immagini alla box mi pare che l'ho pagata sui 35 compreso di spedizione ecco qua yokai il glossario poi il calgifer caffè che una spilla poi c'è un paio di calzini ci sono coino faccia quindi sia questo che questo sono di la città incantata non è mancabile candela o il pentagon al gusto di limone di fiori di limone ma forse non è una candela si 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 candela che se devo essere sincera non c'è tecca niente con il studio ghibli ah e poi c'è uno sconto di yellow fresh che io ho già fatto quindi non mi interessa e basta all'interno la box è così se devo essere sincera mi aspettavo un po' più bella allora vi faccio vedere il cartoncino si doveva arrivare un ci è arrivata anche un email con la t-shirt ma non l'avevano messa ah c'è lo sconto del 15% da utilizzare sul nostro extra shop allora la candles è Cosy Corner Candles di Clarissa è un'azienda con candele vegane e qua c'è l'indirizzo Instagram poi c'è Marga Biazzi è un'illustratrice e questa è lei è Black Banshee poi c'è Pink Corner la spilla che arriva da Londra e poi c'è i calzini bassini e qua c'è l'indirizzo Instagram ok quindi sono uno, due, tre, quattro oggetti più il libro il libro c'è in tutte le box una, due, sì, quattro ok l'illustrazione è molto bella do un vuoto sei in mezzo per questo video è tutto mettete un pollicino all'insù e iscrivetevi al mio canale ciao ciao